Sono 864 i siti contaminati o potenzialmente contaminati in Abruzzo, secondo l'ultimo aggiornamento dell'anagrafe dei siti, approvato il 28 dicembre scorso dalla Giunta regionale. 159 sono quelli con superamenti accertati delle concentrazioni soglia di rischio e delle concentrazioni soglia di contaminazione per le acque, così distribuiti. 74 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Teramo e 12 in provincia dell'Aquila. Per altri 17 siti la procedura di bonifica si è conclusa. Molto più numerosi i siti potenzialmente contaminati, ben 705 così distribuiti. 211 in provincia di Pescara, 197 in provincia di Chieti, 181 in provincia di Termo e 116 in quella dell'Aquila. 233 siti precedentemente individuati sono risultati non contaminati. A tal proposito il forum H2O ricorda che in Abruzzo sono stati perimetrati un sito nazionale per le bonifiche, quello di Bussi sotto la competenza del Ministero dell'Ambiente e tre siti di interesse regionali, Saline, Alento, Chieti e Celano, di competenza della Regione. Per le restanti aree la competenza dei procedimenti di bonifica e dei comuni, che sovrintendono anche alle attività di bonifica che devono essere svolte dai privati.